Allora, che cosa facciamo? Riguardo a cosa? Dobbiamo dire a Ryan di Jenny. Che cosa? Perché? Se noi due stessimo per sposarci vorreste sapere di tutti gli uomini con cui sono andata a letto. Tutti? Falla finita. Tu fai gli autografi sui segni delle tue fan. Non ti può scioccare sapere che non sono vergine. È solo che la parola tutti suggerisce un numero elevato. Di quanti stiamo parlando con esattezza? Davvero mi stai chiedendo di dirti il numero? Tu mi dici il tuo, io ti dico il mio. Uomini, volete sapere ma in realtà non volete sapere. Tutte le donne hanno dei segreti, compresa Jenny. E a volte per il bene di una relazione è meglio non condividerli.